Bentrovati ai telespettatori del Tg8, benvenuti alla nostra rubrica di approfondimento. Il fatto pieno estate, dunque non possiamo non parlare di turismo e lo facciamo con l'assessore regionale Daniele Damario, che ringrazio e che è qui con noi. Tra breve parleremo della campagna messa in atto della regione, delle presenze turistiche nella nostra regione, almeno un primo bilancio di quello che è stato fatto, di ciò che c'è da fare, ma io direi, assessore, se lei me lo consente, di partire con una cattivante promo che avete realizzato proprio sul nostro Abruzzo. Che bella sorpresa, vediamo. Amore, io ci ho pensato, serve una meta dove rilassarsi attivamente. Ok, rilassa il sole, ma anche sport, in acqua, in spiaggia, ovunque. E poi certo, escursioni nel verde e in montagna e ovviamente tappe per degustare vini e piatti tipici. Ah, per finire, borghi antichi. Io se non c'è un po' di storia non mi muovo, eh. Amore, ce l'ho. Andiamo in Abruzzo. Che bella sorpresa. Assessore, è davvero una bella sorpresa il nostro Abruzzo. Cosa manca? Abbiamo mari, monti, parchi, laghi. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Io con lei vorrei parlare della campagna messa in piedi dalla Regione che è una campagna molto sinergica, cioè in sinergia con le associazioni, gli operatori e che sta dando, mi sembra, i suoi frutti. Innanzitutto grazie, un saluto ai telespettatori. Sì, diciamo che da circa due anni e mezzo, tre anni, il modo di promuovere l'Abruzzo è sicuramente cambiato. Innanzitutto è cambiato come attori. Prima alle fiere internazionali ci presentavamo come stand istituzionale Regione Abruzzo. Da due anni e mezzo a questa parte, avendo fatto anche un protocollo con le Camere di commercio, ci muoviamo come sistema Abruzzo e quindi alle fiere partecipiamo con gli operatori che penso che sia questa una marcia in più. È inutile allestire uno stand, una fiera internazionale e poi presentarsi. La presenza dell'assessore è importante, ma la presenza importante è quella degli operatori che poi devono accogliere i turisti e che sanno cosa i turisti cercano in Abruzzo. Ci siamo ridati sicuramente una veste grafica nuova. Abruzzo che bella sorpresa, invece è stata la cosa più semplice da cognare perché è quello che ci dicevano le persone turistiche per la prima volta che venivano in Abruzzo. Quindi una regione che sicuramente fino a tre anni fa era meno visibile, oggi sicuramente più visibile, più riconoscibile. La gente comincia ad avere consapevolezza che l'Abruzzo ha tutto quello che serve per far felice un turista. Il mare, le montagne, i nostri borghi, le ciclovie. Abbiamo un patrimonio importante di cui la gente comincia a prendere consapevolezza. Noi abbiamo partecipato alle fiere più importanti, abbiamo realizzato spot televisivi, tra altre cose questo spot andrà in onda nei prossimi giorni su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Stiamo investendo tanto, grandi manifestazioni, sicuramente la più importante è quella della grande partenza del Giro d'Italia che comunque ha acceso un riflettore, penso unico, avendo 400 milioni di telespettatori potenziali per tutti i paesi collegati. L'accordo con il Napoli Calcio che all'inizio ha creato qualche polemica, però oggi abbiamo avuto anche fortuna. Il Napoli è diventato campione d'Italia, ma non solo il Napoli. Vorrei ricordare che in questi giorni, tra pochi giorni, verrà anche la Salernitana a fare il ritiro in Abruzzo. Ritengo che abbiamo lavorato tanto, i risultati cominciano ad arrivare, noi lo diciamo noi, ce lo dicono le associazioni di categoria. Noi oggi non abbiamo ancora i dati perché le strutture ce le trasmettono 15 giorni dopo, alla fine di ogni mese. Però a giudicare dal sentiment delle associazioni di categoria e degli operatori sarà sicuramente un'estate importante. Però, insomma, diciamo che i frutti di tanto lavoro si cominciano a vedere. Fede Ralberghi ha parlato, Assessore, addirittura di 7 milioni di presenze. Noi siamo felici di questo. Insomma, è una meta sicuramente ambiziosa, però magari non saranno 7, sarà qualcuno in meno o qualcuno in più. Sempre tanti sono. Sono sempre tantissimi. Devo dire che i dati sul sentiment che abbiamo noi sono dati importanti. Abbiamo avuto qualche piccolo problema nei mesi di aprile e maggio, ovviamente non dovuto all'Abruzzo, ma dovuto purtroppo al maltempo. Oggi sempre più le persone prenotano last minute, addirittura last second. E quindi abbiamo avuto qualche disdetta dovuto purtroppo al maltempo, ma che abbiamo recuperato il mese di giugno e che pensiamo nel mese di luglio-agosto di recuperare abbondantemente. Per quest'estate, come ogni estate, il core business del turismo abruzzese rimane quello del mare, con la costa terramana diciamo che un po' in pole position. Però anche le montagne e soprattutto, come diceva lei, la costa dei Trabocchi attrae i turismi e soprattutto i piccoli borghi che sono appetiti in particolare dagli stranieri. È vero, Assessore? Sì, ha detto bene lei, il core business del turismo abruzzese è ancora legato al turismo per le famiglie, spiagge attrezzate, quindi la costa terramana, che da anni ha una clientela consolidata rispetto a questo segmento di turismo. La costa dei Trabocchi, dicevo prima, ha avuto sicuramente un'esplosione rispetto anche alla riconoscibilità. Sulla costa dei Trabocchi però ci dobbiamo lavorare nel senso che da oggi è conosciutissima in tutta Italia e non solo in Italia. Dovremmo cominciare a ragionare con le amministrazioni locali per implementare la recettività che oggi non riesce a soddisfare le tante richieste che arrivano verso la costa dei Trabocchi. Sicuramente anche le mete montane hanno tante prenotazioni per il momento, tra virgolette, la montagna abruzzese che prima era molto identificata per gli sporti invernali, voglio dire oggi l'Altopiano del Sangro secondo me non ha niente da invidiare alle più importanti stazioni scistiche delle Alpi, ma questo anche per tutte le altre stazioni scistiche abruzzese, però si comincia anche a sfruttare questo brand delle montagne abruzzese anche per il turismo estivo. Voglio dire, prima abbiamo parlato di Napoli Calcio, penso che l'Altopiano Roccaraso, Rivisondoli in questi giorni avranno problemi a contenere le tante persone che vorranno trascorrere le vacanze sulle nostre montagne. Sicuramente c'è un'esplosione, abbiamo numeri in crescita rispetto al fenomeno del cicloturismo, dei cammini, in Abruzzo c'è stata un'esplosione di cammini organizzati, forse in qualche momento diventano anche troppi, però sicuramente offrono in un momento in cui il turismo esperienziale, in cui le persone che vanno in vacanza vogliono vivere esperienze, avere questi borghi ingandati ricchi di storia, ricchi di cultura, ricchi di monumenti, avere la possibilità di percorrere cammini tracciati, segnalati, che uniscono alla bellezza del camminare, del riflettere in mezzo alla natura, anche la possibilità di vedere monumenti importanti e poco conosciuti, quindi la scoperta dei nostri borghi è sicuramente bello e poi ovviamente tutto condito con la nostra splendida enogastronomia, di cui i borghi sono ricchi di tradizioni di cucina, la riscoperta delle vecchie pietanze legate ai nostri borghi. Diciamo che, ripeto, Abruzzo ha tutto quello che serve per far felice un turista. Modernità è tradizione che non collidono tra di loro, anzi si uniscono in maniera ammirabile e anche incuriosisce questa cosa. Assolutamente sì e soprattutto avere un territorio tutelato, non dimentichiamoci che secondo me siamo un modello di sostenibilità, che oggi è la parola chiave, siamo un modello di sostenibilità in Italia e in Europa. Non dimentichiamoci che l'Abruzzo è comunque una regione a forte vocazione industriale, ha il comparto produttivo più importante del mezzogiorno e farlo convivere in piena sintonia con tre parchi nazionali, un parco regionale e una merita aree protetta sicuramente rappresenta un modello di sostenibilità di cui dobbiamo essere fieri e che dobbiamo sbandierare. L'Abruzzo può e deve diventare un settore trainante per la nostra regione? Il turismo rappresenta già una quota importante del nostro PIL, ha margini di crescita sicuramente importanti, è evidente che i risultati non si ottengono in pochi giorni, noi sono tre anni che lavoriamo alacremente, il nostro primo fine era far conoscere ciò che c'è in Abruzzo, far capire che c'è una regione al centro dell'Italia, quindi anche facilmente raggiungibile, che ha tutto quello che uno cerca quando vuole fare una vacanza rilassante in spiaggio o vuole fare esperienze bellissime in montagna, nella natura e diciamo che ci siamo riusciti. Oggi l'Abruzzo è sicuramente più visibile al grande mercato italiano e internazionale. Già l'anno scorso aver raggiunto i livelli pre-Covid è stato un risultato importante, per niente scontato, quest'anno cerchiamo di migliorarlo. Ci siamo concentrati anche sulle infrastrutture, insomma l'aeroporto che ha un numero sempre crescente di passeggeri, insomma l'anno scorso siamo arrivati a 700 mila, quest'anno speriamo di arrivare a 900 mila passeggeri, investimenti sulle infrastrutture, l'allungamento dell'aeroporto che quindi permetterà anche di avere voli intercontinentali, insomma è una lunga strada che però stiamo percorrendo a tappe forzate. Prima volevo dire che il settore abruzzese, il settore del turismo abruzzese deve diventare uno di quelli trainanti. Lei ha detto che è ancora presto per fare dei bilanci, però parliamo della tipologia del turista, sceglie il mare il turista che viene dal nord Italia, ci sono presenze estere che sono tornate in Abruzzo dopo il periodo della Covid? Dicevo i dati non ce li abbiamo ancora disponibili, però ci affidiamo a quello che ci dicono gli operatori in questa fase, già fra una settimana cominceremo a avere i primi dati reali delle presenze. Sicuramente il Covid ha cambiato anche il modo di far turismo un po' in Italia, c'è una grande presenza di italiani che tornano in Abruzzo, che scoprono l'Abruzzo come una meta nuova dove far turismo, c'è un ritorno degli stranieri, ovviamente il Nord Europa, la Germania, la Francia, anche l'Inghilterra sono le presenze più importanti numericamente. Evidente che c'è stata un'esplosione del turismo esperienziale, quindi di gente che vuole fare l'esperienza, e devo dire che il target delle persone che vengono in Abruzzo è un target con un'età in discesa, quindi magari prima venivano solo le famiglie, più le famiglie, adesso cominciano a venire anche i giovani che non cercano magari le notate in discoteca, magari quelle le fanno da qualche altra parte, però che vogliono fare un'esperienza immersi nella natura. C'è uno studio fatto da Enit, non è recentissimo, io però ne sono venuto a conoscenza un annetto fa, che chiedeva a un campione di 5.000 persone di collegare una sola parola per ogni regione italiana. Bene, più del 70% delle persone hanno legato la parola Abruzzo parchi, per far capire come siamo visti fuori dall'Italia e in Italia, e questo è il sentimento ancora di una regione verde tutta da scoprire. Devo dire che anche con la governance dei parchi si è instaurato un colloquio nuovo, il parco prima l'ente parco era vista come lente che frenava, che ti impediva di fare nuove installazioni, ogni volta anche se dovevi aprire una finestra, un'abitazione l'ente parco era lì che vigilava. Oggi si è capito che la tutela negli anni passati, fino ad oggi, dell'ambiente, può e deve essere messa a sistema per far sì che quelle comunità traggano dei benefici da un ambiente verde tutelato. Anche altre regioni possono andare ad essere regioni verdi, l'Umbria, nei suoi spot dice la regione verde d'Italia. Però non è il mare. Non è il mare, non solo, ma una cosa è avere il verde naturale, una cosa come è avvenuto per tanti anni in Abruzzo, che possono avere il verde tutelato, la salvaguardia della fauna selvatica e la salvaguardia di quel immenso patrimonio di biodiversità che abbiamo in Abruzzo. Assessore, siamo in chiusura, noi ci vediamo anche attraverso lo streaming sul nostro sito www.rete8.it, in qualsiasi parte del mondo si è, basta avere una connessione internet, allora io vorrei che lei invitasse chi ci sta ascoltando anche da altre regioni d'Italia e da altri paesi del mondo a venire in Abruzzo per scoprire questa bella sorpresa. Sì, io penso che trascorrere qualche giorno in Abruzzo renda le persone felici. Tra virgolette quest'anno c'è stata anche un'esplosione di manifestazioni che i comuni, i territori organizzano, quindi magari passare delle belle giornate e mattinate in spiaggia, poi il pomeriggio prendere la bicicletta e percorrere la ciclovia adriatica. Ovviamente la parte più bella è quella della ciclovia della costa dei Trabocchi però ricordiamoci che c'è una ciclovia che parte da Martinsicur e arriva a San Salvo oggi ha delle piccole interruzioni ma speriamo magari nel giro di un anno, un anno e mezzo che uno possa prendere la bicicletta appunto da Martinsicur e arrivare a San Salvo percorrendo sempre la stessa ciclovia adriatica. Per chi non è mai venuto sicuramente l'Abruzzo sarà una bella sorpresa. Chiosa, velocissima, se vuoi raggiungere qualcosa e poi chiudiamo. Ma io devo dire che oggi abbiamo parlato del grande lavoro della promozione dell'Abruzzo devo dire che noi abbiamo fatto anche un grande lavoro legislativo perché abbiamo approvato due leggi importanti di riordino sia del sistema turistico che del sistema culturale tra virgolette leggi profondamente condivisa con gli operatori e con tutti i soggetti del Consiglio regionale tant'è vero che una è stata approvata all'unanimità e un'altra con solo tre astensioni il che fa capire che è stato sicuramente un lavoro condiviso che dava risposta ad ogni singolo aspetto per quanto riguarda il patrimonio culturale e per quanto riguarda gli operatori del turismo. Grazie allora all'assessore Daniele Damario, assessore regionale al turismo bene noi ci uniamo all'assessore e invitiamo i telespettatori che ci vedono anche dall'estero perché no a venire in Abruzzo si conclude la rubrica di approfondimento il fatto ma avremo tanti altri modi per tornare a parlare di turismo e dei vari settori che propone la nostra regione ancora un ringrazio all'assessore Daniele Damario Grazie a lei, un saluto ai telespettatori Grazie e grazie ai telespettatori del Tg8 Arrivederci